L'amore per il bello e la poesia e poi numerosi riferimenti a figure mitologiche come Narciso, Afrodite, Zeus, Atena, la nuova Silloge di Silvia Elena Di Donato traccia un percorso per il quale noi esseri umani siamo dei perfetti paradigmi della complessità, come il titolo del nuovo libro che è stato presentato a Lanciano. Fra emozione e vertigine, fra complessità e amore, come nasce questo nuovo testo? Silvia Elena Di Donato. Paradigmi della complessità è una silloge di testi, di tentativi poetici che ripercorrono con la creatura connotativa propria della parola poetica lo spettro delle emozioni e delle tonalità emotive. Perché questo? Perché la parola poetica ha una potenzialità espressiva diversa dalla parola denotativa che mira alla comunicazione immediata. Allora, la poesia diventa uno strumento di conoscenza del mondo, di declinazione del mondo e anche uno strumento per esplorare noi stessi. Poi con la scrittura e il testo poetico si consegna al lettore e diventa relazione con il lettore in cui ciascuno, ciascun lettore appunto, può sperimentare un percorso, un percorso proprio di conoscenza, di rivelazione a se stesso e di incontro con una bellezza, perché la poesia è forma, bellezza, ma è anche una dimensione etica e c'è un crinale sul quale ciò che è estetico e ciò che è etico si incontrano. E questa è la dimensione propria della poesia, restituire con l'estetica della bellezza la caratura etica. Ecco perché noi oggi abbiamo bisogno della parola poetica, perché è una parola capace di aprire mondi, di costruire mondi. Poesia deriva da un termine greco, da un verbo greco, del greco antico, poieo, che significa fare. Allora, la parola poetica è una parola che fa. E che cosa fa? Costruisce mondi, costruisce opportunità, costruisce visioni, costruisce ponti. Io insegno, sono innanzitutto un'insegnante e condividendo con gli studenti delle riflessioni anche sull'attualità drammatica, ecco molti studenti dicono vabbè professoressa, però noi che cosa possiamo fare? Come che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare tante cose, sicuramente la cittadinanza attiva, la partecipazione, il dovere di informazione, ma noi possiamo anche, forse, soprattutto leggere. leggere poesia, sperimentare bellezza e attraverso questa esperienza che è ad un tempo etica ed estetica, incontrare l'altro e trovare parole nuove che compongono e che risolvono contrasti e punti di vista diversi. L'incontro si è svolto alla Casa di Conversazione ed è stato organizzato dall'Associazione Uomo Patrimonio da Salvare. Ci sono fatti o situazioni dell'attualità che in lei hanno innescato questo bisogno di scrivere, di gettare versi poesia su un foglio? Il desiderio di bellezza. Il desiderio di bellezza innanzitutto è il desiderio di condividere non belle parole, di quelle siamo capaci tutti, ma il desiderio di condividere parole belle. Noi abbiamo bisogno di parole belle. La cultura social ci ha abituato ad un eccesso di sintesi, alla velocità della comunicazione e questo corrisponde in maniera proporzionale ad una perdita di senso a volte. Allora noi dobbiamo restituire la parola a se stessa. La parola è la prerogativa dell'essere umano perché la parola è lo strumento del pensiero, dove la parola si impoverisce. Si impoverisce il pensiero. Noi abbiamo bisogno di recuperare parole per pensare il mondo e di parole belle per pensare il mondo in maniera bella da un punto di vista etico ed estetico.